Buongiorno a tutti e benvenuti a questo podcast settimanale. Allora, è stata una settimana particolarmente delicata, quella che abbiamo visto in borsa. Si poteva pensare che potesse esserci magari un piccolo rimbalzo nella fase finale del mese di giugno, giusto per non avere un trimestre così pesante, anche un semestre evidentemente. In realtà invece fino a giovedì si è scesi ed è stato poi venerdì che i mercati americani, soprattutto nella seconda fase quando l'Europa si era già spenta, chiusa come settimana, sono risaliti ed hanno dato un segnale che magari poi si propagerà anche alla prossima. Ebbene, in tutto questo scenario ci sono dei fattori che ormai cominciano a delinearsi per bene. E ricordo che nella scorsa newsletter, anzi invito chi magari non la legge a iscriversi alla newsletter, i link si trovano qui sotto per farlo. Nella scorsa newsletter io in qualche modo facevo un po' un recap di tutto quello che ci siamo detti e arrivavo alla conclusione che ci sono alcuni primi tasselli del puzzle che cominciano ad andare a posto, però siamo ancora lontani da parlare di una potenziale inversione. Io dicevo si tornerà a comprare fortemente Bonds, quando sarà il momento di invertire, le azioni Gros torneranno a sovraperformare quelle value e poi l'azionario si dovrà assestare dopo una fase un po' di panico, però dicevo anche che ci mancherebbe probabilmente di vedere un botto violento, ci manca ancora per reagire in maniera vigorosa una lenta e noiosa fase di accumulazione, per consentire a chi dal mercato è uscito in tempi non sospetti di ricaricare quella molla che poi può portare a cose interessanti e poi ci manca di vedere banche centrali che siano di nuovo accomodanti, ci manca di vedere economie che cominciano a ammorbidire i toni rispetto a certi aspetti, però alcune cose, alcune situazioni in questo scenario cominciano ad essere interessanti. Innanzitutto diciamo che siccome è conclamato che ci può essere una recessione, ce lo ha detto Powell, ma ce lo dicono anche certi andamenti, per esempio se noi prendiamo il rame e l'argento, cioè il rame che è il principale metallo da lavorazione industriale e l'argento che è anch'esso, oltre ad avere una componente che lo assimile in parte all'oro, ha una componente di forte somiglianza con il rame per via dell'utilizzo industriale, ebbene tutti e due questi metalli da lavorazione o comunque per la loro componente di lavorazione stanno scendendo in maniera netta, in maniera decisa, l'uno ha lasciato i 4 dollari, il rame, l'altro ha lasciato i 22 e poi si è riportato abbondantemente sotto 20 e forse tornerà magari anche a 18 dollari e mezzo, tutti e due questi ci danno un segnale forte, le materie prime stanno cominciando a scontare un rallentamento e questo è lo scenario che si concretizza, cioè non è più tabù parlare di recessione, lo ha fatto Powell per primo, tutto il mercato a quel punto ne prende atto e di conseguenza anche alcune materie prime scendono, certo mancano ancora quei segnali dalle aziende, quelle trimestrali che sanciscono un pochino il rallentamento, ma questi anche arriveranno, potrebbero però anche arrivare alcuni titoli del settore grow che magari dicono sì ma noi il bottom l'abbiamo già fatto, lo dicono ovviamente con i loro numeri e quindi questo può portare a una sovra performance, ma c'è già la sovra performance dei titoli grow rispetto ai value, in qualche modo guardando la mappa dell'S&P dell'ultimo mese, in una maniera particolare forse la si può cominciare a intravedere, ma non con il fattore che gli uni salgono più degli altri, ma che in realtà nell'ultimo mese il peggior settore dell'S&P 500 è stato quel comparto oil che era invece salito tantissimo prima, quindi in qualche modo non possiamo dire che gli uni sono saliti più degli altri, ma possiamo dire che i titoli tecnologici nell'ultimo mese sono scesi un po' meno di quanto non siano scesi quelli del comparto oil che erano stati incensati decisamente unici tra gli altri nel primo semestre di quest'anno, quindi nell'ultimo trimestre anche, quindi questa situazione si sta preparando, si sta preparando una fase di questo tipo, certo quello che si è visto la settimana e questo sì magari è un segnale è che si è tornati a comprare bonds e si è tornati a farlo con una certa decisione, giusto per capirci il rendimento americano nel giro di 15 giorni è passato dal 3,5% sul decennale al 2,80, è tanto, vuol dire che sono stati comprati tanto i bonds, perché per far scendere il rendimento bisogna far salire i bonds che fanno questo solo se sono sottoposti a una forte pressione di domanda e quindi il prezzo sale evidentemente perché c'è tanto bid e evidentemente se sale il prezzo scende il rendimento, ma questa cosa si è vista anche diciamo così sul BTP banalmente o anche sul bond pensando a quanto sono rientrati i rendimenti che sul BTP erano andati anche oltre il 4% e attualmente sono scesi con grandissima decisione. Allora, lo scenario come dicevo comincia a delinearsi, evidentemente e lo diciamo da un po', un rimbalzo ci può stare, poi verrà o non verrà, ma ci vuole anche una fase di assestamento, quindi ci vuole pazienza. Allora, cosa fa l'investitore? L'investitore semplicemente è lì, ha possibilmente tenuto una bella rosa di pallini come dotazione, può decidere di non sprecare tutto in una botta secca, ma di suddividere e probabilmente da questo momento con una pazienza considerevole dovrà cominciare a polverizzare il più possibile il suo investimento, ma pian piano a raccogliere che cosa? Beh, soprattutto quei titoli che nel marasma, diciamo così, non solo hanno perso tutto il grasso superfluo e sono rimasti solo col muscolo, ma laddove addirittura, siccome non si fa troppa distinzione quando si va nel mucchio, hanno subito anche un'erosione del muscolo stesso, quindi c'è della sostanza, c'è della qualità, ma il mercato magari in questo momento non se ne sta troppo accorgendo. Su questi titoli si può magari già cominciare a fare delle prime valutazioni, tutto dal punto di vista dei fondamentali, cominciare a valutare che cosa è veramente a sconto, diciamo anche che nel frattempo arriveranno le prossime semestrali e quindi cominceremo ad avere anche le idee più chiare circa eventuali correzioni che noi potremo fare nelle aspettative, nelle guidance, nelle proiezioni di utili futuro e tutto questo è un percorso che tenderà ad andare in porto lentamente, non è mai un movimento a V quello che dà poi un fondo solido, queste cose succedono come è capitato nella pandemia, ma con tutte le reazioni contro le reazioni, banche centrali che mettono soldi in gioco, un vero orso come quello che stiamo vivendo adesso evolve in un'accumulazione lenta, bisogna essere bravi a capire che per accumulare vuol dire che si raccoglie un sassolino per volta e non si cerca di spostare un macigno tutti insieme, mi sembra che questo sia lo scenario che emerge da questa settimana e quindi noi come dire rimaniamo lì in paziente attesa, sappiamo che non pescheremo una balena ma tanti piccoli pesciolini uno per volta che selezioneremo e quindi un caro saluto a tutti, alla prossima, ciao